Salve a tutti, quando interagite con gli alberi prima o poi vi capiterà di essere inseguiti dalle vespe che lasceranno in terra l'alveare e vi inseguiranno. È inutile scappare a caso sull'isola perché prima o poi vi raggiungeranno. La soluzione qual è? La vediamo subito. Allora questa è una mia partita, ad esempio. Ora interagisco con l'albero a fianco e arrivano le vespe. Guardate. Ecco qua. A questo punto bisogna fuggire verso la prima capanna che trovate o verso la prima casa. In questo caso ho la tenda di Blatero e bisogna entrare velocemente. Ecco fatto. In questo modo le vespe si disperdono. Se vi hanno punto nessun pericolo potete o aspettare del tempo oppure comunque prendere l'alveare e usare, faccio vedere nel laboratorio, due ingredienti per creare la medicina che sono tre erbacce e un vespaio. Quindi andate nella capanna di Nook, costruite la medicina, la prendete e verrà risolto il problema dell'occhio chiuso. Se no aspettate del tempo. Tutto qua. Spero di essere stato utile. Un saluto a tutti.